Sabato 13 gennaio, presso il Teatro Comunale di Valperga, si è tenuto l'incontro dal titolo alla scoperta del Sacro Monte, patrimonio dell'UNESCO, un momento per discutere del passato e soprattutto del futuro incerto del Santuario di Belmonte. Infatti, in seguito alla decisione dell'Ordine dei Frati Francescani di non proseguire l'attività religiosa presso il Santuario, che appartiene ad un soggetto privato, le prospettive per l'avvenire sono ancora nebulose. Le istituzioni, a partire dai comuni della zona, dall'Unione Montana Val Gallenca a Cornier, si sono mosse e la Regione ha intavolato una trattativa con la proprietà al fine di trovare una soluzione per la salvaguardia del sito. Parallelamente all'attività istituzionale è nata anche l'associazione Amici di Belmonte. L'obiettivo del gruppo è quello di mobilitarsi per difendere la peculiarità del Santuario e la fruibilità al pubblico del Sacro Monte. Nell'ultimo anno praticamente è venuta a maturazione la situazione di rischio di abbandono del convento da parte dei frati e quindi il discorso è stato portato avanti d'urgenza reagendo a una situazione che sembrava irrecuperabile. Sono nate le prime riunioni a metà anno, è stato interessato anche l'ente Regione che attraverso l'assessore regionale Parigi ha voluto visitare il convento di Belmonte per vedere effettivamente di che cosa si trattava perché non l'aveva visto recentemente e così è nata in parallelo all'attività della nostra associazione, nata poi ufficialmente l'8 settembre, è nata questa speranza di un intervento regionale presso la proprietà in modo tale da subentrare eventualmente ai frati nella gestione del sito. Direi che la nostra associazione è nata l'8 settembre, il 4 di ottobre è stata riconosciuta come Onlus, ha come scopo quello di difendere, di intraprendere tutte le attività per difendere l'esistenza di Belmonte, il patrimonio archeologico, artistico e ambientale dello stesso e quindi di dare una possibilità di continuità di vita a un sito estremamente importante per tutti i canavesani. Tutti i canavesani sono evidentemente abituati a vedere Belmonte e a sentirlo vicino perché lo vedono. Sembrava una garanzia e una garanzia a questo punto qui non è più, bisogna porsi la domanda cosa vogliamo fare, cosa possiamo fare tutti noi per fare in modo che continui anche per il futuro. Siamo tutti in attesa di vedere quali saranno gli sviluppi della trattativa in corso tra regione e proprietà. Noi stiamo ragionando in parallelo come se già si fosse stato un esito positivo ma evidentemente stiamo lavorando senza avere delle garanzie che quello che stiamo facendo ad un certo punto possa essere un progetto applicativo o applicabile. Vogliamo non credere che si chiuda Belmonte. Un primo risultato che abbiamo ottenuto è stato che mentre i frati sembrava dovessero abbandonare il convento alla fine di ottobre, giorno per giorno hanno rimandato e per il momento sono ancora presenti nel convento. Grazie a tutti.